fratelli e razzurri amici di facebook e instagram buongiorno a tutti ragazzi un saluto a tutti gli iscritti al canale buon venerdì e buon inizio di weekend ragazzi settimana scorsa non si è potuto perché non poteva marta ieri sera non ho potuto io perché a una certa mi è risalita la febbre ho deciso ho pensato che a sto punto non la pre non la programmiamo più con marta a cazzo di cane saliamo una sera in live e spunteremo così no sto scherzando adesso ci metteremo d'accordo per la settimana prossima però ieri veramente ragazzi ero dopo cena già ero oggi devo dire meglio di ieri mattina quindi vediamo se se faccio un bel giorno senza febbre vuol dire che abbiamo passato sta rottura di cazzo in mane allora ragazzi allora tra l'altro oggi ragazzi il 6 ottobre e quindi siccome fa parte del canale è che penso che sia il cane uno dei cani più social insomma a livello di youtube di tifosi insomma è sempre con me questo è proprio un canale a conduzione familiare cioè c'è mia moglie mio figlio il cane e derbino oggi oggi derbino compie 15 anni ragazzi oggi è il compleanno di derbino 15 anni mio vecchiettino tutto sbianchettato che poi oggi è il giorno in cui lui nasce quindi oggi è proprio il giorno ufficiale del compleanno però io poi l'ho preso che era il 6 dicembre del 2008 quindi perché doveva stare con la mamma fare tutto lo svezzamento insomma le vere cose no quindi oggi derbino compie 15 anni il nostro super derby che prima poco fa era qua ma l'ha detto sgraziato ho detto bella se rimane gli facciamo anche la canzone tanti auguri a derby niente se ne hanno detto allora ragazzi allora ho visto che qualcuno mi ha scritto lo mi ha commentato gli ho risposto sotto un video mi ha chiesto mi ha detto non vedo l'ora di vedere questo diciamo tuo video sul vaio te mi fa piacere sta cosa che ci sia gente comunque interessata all'argomento visto che è una brutta pagina della storia italiana quindi vi dico che la prima parte è già su è caricata in premier e andrà in onda diciamo lunedì 9 ottobre proprio il giorno in cui ci sono i 60 anni del vaiont alle ore 21 la seconda parte la carico alle 22 vi spiego perché due parti perché partizioni diventa troppo lungo già la prima parte è impegnativa però però insomma racconto un po di cose dietro di me scorrono delle foto insomma ho fatto un video particolare per spiegare un attimino com'è andata ecco poi io io faccio riferimento ad altre cose da vedere insomma se poi qualcuno si vuole più però la prima parte già sulla seconda parte invece quale un video racconto quindi ci sono io che racconto con le foto che scorrono la seconda parte invece proprio sono video miei di vent'anni fa esatti perché era il 2003 e io andavo per la prima volta sopra lì sopra perché l'ho sempre vista fin da piccolo da sotto quando andavo al paesello in montagna per la prima volta salivo lì sulla diga e quindi era esattamente vent'anni fa e vedrete un mini film della memoria di quella giornata insomma quindi vedrete delle belle immagini un po vecchiotte un po datate di vent'anni fa però sono recuperato un po di vhs e quindi ci tenevo a farvi vedere anche questa cosa qui e c'è un po tutto c'è la diga da sotto la diga da sopra la frana i due paesini erto e casso il il museo di casso quindi erto scusate quindi a chi interessa l'argomento lunedì 9 ottobre dalle 21 in poi due appuntamenti mi raccomando ci tengo sapete è una cosa che ne parlo da otto anni quando sono sui social detto questo ragazzi vigilia inter bologna vigilia inter bologna ho visto la probabile formazione visto che poi c'è anche il fantasgraus e quindi dobbiamo inserire le formazioni mi sembra formazione titolare mi sembra che siano confermati un po tutti quindi centrocampo tutto titolare dimanche dunfriss sulle fasce benji acerbi e il briscola in difesa e l'attacco la tura parlando un attimo dell'attacco io avevo detto una cosa nelle mie live reaction però poi non ne ho parlato ho parlato molto di benji pavard ho visto un ottimo sanchez in queste due occasioni nel senso sia quando è partito titolare i primi 20 minuti uno dei migliori in campo e secondo me se non se non sbaglia quel gol e sblocca la partita e segna fa un primo tempo della madonna e poi quando è entrato gli ultimi 20 minuti mi è piaciuto molto nino sanchez ha creato anche parecchi pericoli una garra a gamba e quindi sono contento perché insomma era quello un po il punto di domanda soprattutto poi dopo l'infortunio di arnautovic quindi ci può dare una grande mano il nino inserito in anche dall'inizio ho fatto vedere che insomma un tempo secondo me lo può fare fatto come si deve per far rifiattare un po i nostri bologna non è da sottovalutare domani ennesimo sold out domani ecco questa è una cosa importante ragazzi avevo detto che forse live reaction non c'erano perché non la vedevo in realtà mi è andata di culo perché è uscito il calendario di stefanotto giochiamo in casa però a partire alle tre quindi riesco a vedermi tutto il primo tempo e una parte del secondo la seconda parte live reaction in macchina con la radio come ai vecchi tempi così vi fate anche le risate perché poi mi viene da smadonnare a me in macchina se non la vedo la partita mi incazzo e quindi ci saranno anche le live reaction domani video post partita lo farò direttamente dal campo perché poi vado a vedermi la partita di stefanotto quindi intercazzuta inter famerica magari magari se segniamo nella prima mezz'ora è cosa buona e giusta visto che comunque si crea sempre si crea sempre per quanto riguarda i complimenti qualcuno mi ha sottolineato che ci sono stati complimenti di sacchi non me ne chiamo un cazzo perché ne dicono sempre peste e corna sono sempre lì a rompere i coglioni all'inter questa è gente ossessionata a righe è ossessionato quell'altro è ossessionato quello è ossessionato disordine disordine che ho sentito qualcuno che si è pure galvanizzato che ha portato disordine sul suo canale quello il primo anti interista di tutti e tu interista porti disordine sul tuo canale dai c'è qualcosa che non va disordine che prima il calendario il calendario adesso se ne viene fuori come mai l'inter ha giocato alle 12 e 30 ad empoli cioè rompe il cazzo per ogni minima cosa e io devo credere ai complimenti di sacchi ma per piacere questi sono ossessionati dall'inter più noi vinciamo e più impazziscono e tirano fuori cose inenarrabili appunto gli è piaciuta l'inter gli è piaciuta quell'inter a sacchi frega cazzi non ce ne deve fregare niente pensiamo a noi stessi ragazzi bello di noi cioè almeno io lo ragiono così io penso prima la mia squadra l'inter dopo se milan per mi fa piacere godo se milan e la juve hanno perso ma non penso prima non faccio video contro sempre a prescindere o post contro io vedo gente così quindi siete ossessionati del cazzo come ci sono i tristoni ci sono gli ossessionati è lì è tutto lì quindi chiudiamo un attimo il video parliamo un attimo del grande questo un altro grande ecco anche qua ho visto dei canali youtube è il sindaco sala ma del sindaco sala dovete raccontare quattro anni di barzellette non l'ultima cosa che ha detto grazie a cosa doveva dire sindaco sala cosa doveva dire visto che il milano ormai se ne è praticamente andato e si farà facciamo in tutti i modi che perché l'inter rimanga grazie al cazzo che sono rimane con san siro così ma ha parlato ancora del vincolo ha detto che pura follia sono due volte che dice che il vincolo è follia quindi il vincolo c'è e ci sarà ne parlano adesso ma ci sarà perché scatta ai 70 anni di compimento però anche se tolgono il non si può uno alla sovrintendenza ha detto che comunque non si può abbattere e di che cazzo stiamo parlando del sindaco sala dovete raccontare quattro anni di prese per il culo alle società inter e milan che dopo si sono rotte i coglioni e proprio la punta dell'iceberg è stato il vincolo ok il sindaco che ha perso tempo che aspettava le elezioni per vedere se fosse stato l'eletto poi no dal milano non aveva garanzie poi era l'inter che non aveva garanzie poi ok progetto va bene mette i posti instagram vi ricordate avevo fatto un video perché io ne parlo da sempre di stadio da sempre e so dove cazzo è san siro e ogni tanto ci vado ancora ogni tanto quindi sono continue prese per il culo non ce lo potevi dare prima ammeazza prima ce lo dovevi dare ma siccome inter e milan non interessa vogliono fare uno stadio nuovo perché poi sento parlare si ristruttura san siro la cattedrale ma la cattedrale una cosa san siro ristrutturato è un'altra che potrebbe essere o il diamante o la galleria ma tutti i progetti che prevedono cosa 58 massimo 60 mila posti sta gente si lamenta che lo stadio è piccolo da 60 mila la cattedrale e rompe il cazzo che vuole san siro ristrutturato ho letto anche dei commenti no perché se noi facciamo dove c'era l'ippodrome ma quella è un'area dove già stanno costruendo era della snai per quello è monco san siro da sempre non ha non ha il terzo nello arancio ed è una struttura di cento anni ci sono i video virali che girano di una struttura che balla sempre di più dove cazzo vuoi intervenire o lo tiri giù come hanno fatto wembly maracanà e tanti altri stadi importanti e lo rifai un po più spostato questo io questo vorrei e mi ridico quello che ho detto quattro anni fa guarda piuttosto mi va bene anche ancora lo stadio condiviso ma uno stadio nuovo san siro ma siccome mettono i bastoni tra le ruote è normale che inter e milan si guardino intorno e non sono cazzate perché non è che ho portato il sindaco così ed è da mesi che se ne parla l'inter comunque sta studiando una cosa se poi ci fa rimanere a san siro ma vuole rimanere a san siro con uno stadio nuovo con uno stadio nuovo perché intervenire sul meazza o intervieni come cazzo si deve o il gioco non vale la candela avrei sempre uno stadio che a primanello c'ha 100 anni e quello di sopra del 55 ma di che cazzo stiamo parlando e dobbiamo andare avanti così altri anni a chiudere altri settori non lo so io quindi io la vedo così stadio nuovo che poi sia san siro che sia san donato che sia dove cazzo vogliono loro ma uno stadio nuovo l'inter il pubblico interista questo pubblico merita uno stadio nuovo completamente nuovo adeguato non con i settori chiusi che ballano cazzo vorrei farlo capire agli youtuber che forse boh non lo so forse non ci pensano queste cose basta che loro portano avanti le loro teorie teoria un cazzo qui c'è la gente che va allo stadio condivisione dei video iscrizione al canale sempre forza inter a domani ciao